L'amplificatore integrato TPUA V10 è stato realizzato per celebrare i 25 anni di attività dell'azienda tedesca. L'estetica è molto particolare che fa innamorare al primo sguardo. Utilizza perspec azzurrato, acciaio ed alluminio e di dimensioni compatte con un basso profilo molto piacevole a vedersi. In rete si trova una bella recensione pubblicata da Audio Review e scritta da Marco Benedetti. È conveniente riportare qualche stralcio, soprattutto riguardo al suono. Benedetti scrive, mi verrebbe da dire che siamo di fronte ad uno dei prodotti timbricamente più neutri sul mercato. Particolarmente apprezzabile è l'estensione e il controllo della gamma bassa, tipico tallone di Achille delle amplificazioni valvolari, causato in genere dai trasformatori di uscita non all'altezza. In questo caso mi passa eccezionalmente ben smorzata, a tutto vantaggio dell'articolazione del basso, della capacità di trasmettere il ritmo. Notevolissime anche le doti dinamiche, anche a volume altissimo. Non ho potuto notare indurimenti della gamma acuta o compressioni della dinamica. Ottima anche la velocità sui transienti, che contribuisce moltissimo a trasmettere la sensazione di realismo. Molto buona anche la ricostruzione scenica. Il soundstage è ricostruito con molta precisione e coerenza. La scena si estende ben oltre la larghezza dei diffusori e, se questi ultimi lo consentono, ovviamente molto profonda. In conclusione, il TPUA V10 è senz'altro uno dei migliori amplificatori integrati in commercio.